Abbiamo visitato i reparti nella loro produzione di servizi alla persona quotidiana, una produzione quotidiana che sappiamo può essere implementata se aumenta la capacità di attenzione e la capacità di sostegno. Noi sappiamo che c'è bisogno di ritrovare il dettaglio di quello che serve per riuscire anche a giudicare. Allora, le risorse ci vengono chieste da tutti, risorse finanziarie, risorse umane, risorse tecnologiche e risorse di spazi. Noi siamo in una stagione di spending review, di revisione della spesa, ma questo non significa che non ci sono risorse. La differenza rispetto al passato è il dove si collocano queste risorse per raggiungere quali risultati che noi dobbiamo sottoporre a valutazione. Oggi abbiamo voluto conoscere il quotidiano di lavoro di questo ospedale, anticipando che di qui a dieci giorni ascolteremo tutti i medici e il personale di supporto ai medici, il personale che consente ai medici la loro efficacia di lavoro, perché vogliamo con loro, con la comunità di lavoro degli ospedali e anche dei distretti territoriali e anche della medicina del territorio, riconcepire un modello. In questo modo noi vogliamo aderire anche alle stimolazioni, alle sollecitazioni del nuovo patto per la salute che abbiamo sottoscritto tra governatori, ministeri competenti, governo del paese. Noi dobbiamo deospedalizzare la sanità, allungare la filiera territoriale, riconcepire il rapporto nel territorio, facendo in modo che da quando il paziente viene preso in carica ad opera, per esempio, del medico di famiglia, fino a quando si arriva alla straordinarietà della risposta ospedaliera, nell'intermedio ci deve essere una grande capacità di erogazione di servizi. Per esempio assicuriamo la coniugazione tra bacini, ambiti sanitari e ambiti sociali, in maniera tale che non si proceda all'insegna della separatezza ma della coniugazione, perché molte volte non c'è la patologia ma c'è semplicemente una perdita di autonomia o la comparsa di una fragilità. Lì non è la sanità che deve agire ma è il sistema sociale delle premure sociali. Grazie a tutti.